Questa sera, ehi, questa sera è serata Scotti! Dai, è forte Dai, un bel pull Luca! Te l'ho chiamato, te l'ho chiamato e l'ho trovato Per te Per i soldi, Lele No, no, non si lavora per i soldi Ama, no, maramoku Sword, maramau Maramau, absalom Ah! Teddy! Teddy! E chi noggio? Chi è che è? Bravo, iori, iori 10 euro 10 euro ci si è appena fatto E un'altra cosa, spedisco tutti i giorni Dall'unedì alla domenica Due volte al giorno, la mattina e il pomeriggio E spedisco sempre con Corriere Espresso Bartolini 24 e 48 ore Quindi dove sei sei in Italia Che arriva in due giorni Wise Snake Ottima da giocare nel mazzo di Nami Oh! Nami? Ah! Ah! Pebs! One, two, three Perona! Bella, bella carta Bella, bella carta questa qua Se avete un mazzo nero Perona ci sta da Dio Qualsiasi mazzo nero girate Perona è il vostro Go to Come si dice? Go to Non so come si dice in italiano Però è la vostra carta da utilizzare Siete pronti? Va bene Frost Ovvero Freezer Eccola qua Hai visto? Ma forse anche No Ha trovato? No 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 No, me ne so Goku 10 bomboloni Circa Hightech C16 Fuwa Ah! Ha trovato C18 SR E non avevamo usato la panna Era una È venuta una foam Molto morbida Da mettere sopra Non era con la Non c'era lattosio Ci sono, ci sono Allora questo qua È Albi Che apre 8 bustine Di zenith regale Qua non possiamo Sbagliare È sicuramente Qualcosa Che pulleremo Come matti Sei pronto Albi A pullare Come un matto Ricerca energetica Ecco Cominciamo così Va Molga Questa qua È la tua reverse Meow E Greedent V Non male Tre pacchetti Due pull Non male Non male Sento odore di Arsus Qua Ehi Mi Mi faccio la pipì addosso Se esce qualcosa di Grosso Meow Weimer Abbi Zemazetta Abbi Abbi Zemazetta B Italiano Anche 15 Probabilmente 25 Su Vinted Rayolu Beccati questa Ah Lithion E troviamo solo Rare lografiche Allora lì sì che è tutto È carta bianca per lamentare Yangus Kirubi Oh Non vedevo questa artwork Da una vita intera Fibu Beh Zenit è un set Dove non puoi andare male Cell Ha talmente tante Carte Che si possono pullare E Il pull rate è talmente alto Che non puoi sbagliare Con Crown Zenit Execute Love disk Executor Reverse Non ci fermiamo più Non ci fermiamo Miu V Bannatelo Ah Guardalo Guardalo Metteli un credito di 50 bomboloni Dice Fiolli Sangohan Vado Zizzo Vado Zizzo Kill Funga E Boom Hit SR Alternative Zizzo Guldo Guldo Gulda Come diavolo Si chiama Questo è Freezer SR Diet peps Yonji Ivankov Wiper Kuzan Negative Hola Is that sugar? No it's not sugar It's Oddie Jones Boom Boom Barabum Barabem Barabum Barabem Barabum Trunks Eccela Eccela Eccola qua Tra l'altro Marta Sempre per rispondere a te In questo box Devi sapere che Dragon Ball Ha molte molte SR In ogni box Ce ne stanno circa una decina E ne abbiamo Tirate fuori solo due o tre Quindi la scelta di Seba È stata Una scelta mirata Con la certezza Guardate già qua Un sacco di SR E ne troveremo altre Almeno Almeno altre due o tre Le troviamo a DSR Sono undici pacchetti Quindi Mister Satan Freezer E poi Troviamo lui Leader Alternative Kuzan King Zizzo Shanks No Sabo Zizzo L'ha trovato Dai No vabbè Ma è troppo Fortunato Nico Rabin Bella quella carta Da mettere in un mazzo Rosso Guardate Peps 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 Kaido Dai Peps Buona fortuna Mirko Let's do it Decritazione Esperta Metagross River Smirko Sos Bak E Feraligator C'ho i zoccoli Quelli in plastica Come si chiamano Croco Croco Shiki Gang Gang King Kong Gatling Zoro Secret Dai Vado a dormire Solo se esce la manga Dai Sai Zephyr Mirko Chi è? Shura Yeah È un blocker rotto nel gioco Raise max Broke Oh Mirko Oh Geek of Wario Alternative Art 60 bomboloni per te Mirko Grazie mille per essere venuti Come sempre Apprezzo molto la vostra compagnia E mi piace tantissimo fare queste serate di sconti Così almeno Ci riuniamo tutti per Un pacchettino a testa È stato molto molto divertente Noi ci vediamo domani come sempre A partire dalle 20 Fino alle 2 Grazie ancora a tutti quanti Passate una buona notte A domani